Il Movimento 5 Stelle chiede pubblicamente che l'Aggiunta regionale renda noti i dati sullo stato della linea ex-FCU derivanti dell'analisi effettuata mediante il convoglio RFI denominato Talete, progettato per analizzare a fondo lo stato di salute della linea ferroviaria. Talete, secondo quando affermato dall'assessore Chienella in Consiglio regionale, avrebbe analizzato la linea ex-FCU nei giorni di ottobre. Riteniamo fondamentale accedere a tali dati al fine di valutare il realismo delle reiterate promesse della Giunta e per comprendere le reali condizioni della linea ferroviaria, ha detto Maria Grazia Carbonari del Movimento 5 Stelle.